Guardia di Finanza in festa e visite gratis, dunque prevenzione in Piazza Salotto. Iniziativa congiunta, la Guardia di Finanza festeggia 250 anni, occasione per grandi e piccoli di vedere in azione le donne e gli uomini in divisa. Il colonnello Antonio Caputo. Vedrete stasera in azione le donne e gli uomini della Guardia di Finanza in tutte le loro componenti, sia la componente terrestre, i finanzieri che vedete su strada, i nostri baschi verdi, i nostri cinofili con i cani antidroga e vedrete anche la componente aeronavale, quelle che solcano il mare e i cieli, perché noi siamo anche polizia del mare e quindi saranno qui schierati alcuni mezzi che noi utilizziamo per garantire la sicurezza economico-finanziaria dei cittadini. Quindi un'iniziativa congiunta per garantire i diritti fondamentali ai cittadini. Il diritto dei diritti e soprattutto il diritto alla salute. Ecco appunto, Caputo, vogliamo sciorinare qualche dato relativo alla vostra attività? Allora, diciamo, al di là anche dei numeri, che sono numeri comunque importanti, significativi, a me preme sottolineare il fatto che in quest'ultimo anno, anno e mezzo, la Guardia di Finanza di Pescara ha tenuto la guardia sempre alta verso quei fenomeni illeciti che comportano il mancato assolvimento degli obblighi tributari, lo sperpero di denaro pubblico e qui cito soltanto a mo' di esempio l'operazione Transumanza di questi ultimi mesi che è stata denominata la mafia dei Pascoli, una grande truffa milionaria al bilancio dell'Unione Europea e a, come dire, a detrimento di quelle che sono le risorse del settore primario, soprattutto della regione Abruzzo. Dunque, iniziativa congiunta, allestita in piazza Salotto con la collaborazione del personale sanitario della Sinergo, la cittadella della prevenzione, per consentire gratuitamente una giornata di visite e screening ai cittadini nel cuore della città. Guardacini, dire che la prevenzione è fondamentale, è quasi, anzi senza quasi, un eufemismo. Sì, la prevenzione è importantissima, purtroppo a causa dei problemi sanitari di oggi se ne fa molto poca e grazie a questa collaborazione con la Guardia di Finanza e il colonnello Caputo anche quest'anno riusciamo a fare questa bellissima giornata di prevenzione dedicata soprattutto alla donna, prevenzione dei tumori del seno, tumori della tiroide, prevenzione cardiovascolare, respiratoria e dermatologica. C'è una grande adesione, sono le 10 di mattina eppure insomma tanta tanta giornata. Già abbiamo fatto tantissime visite e questo purtroppo dimostra un punto nevralgico della nostra sanità che è difficile, difficile fare prevenzione e quindi ci dobbiamo porre tutti una domanda e trovare una soluzione. Quali criticità secondo Guardacini? Probabilmente i medici sono pochi e quindi si riesce poco a dare risposta e soprattutto c'è un sovraffollamento dell'emergenza, ci vuole organizzazione più personale probabilmente.